Lunedì l'inizio dei lavori di sgombero dei detriti trasportati dalla frana caduta venerdì nel tardo pomeriggio a Ponte Campo, nella zona dopo la stazione di partenza degli impianti di risalita di San Domenico, sulla strada per l'Alpeveglia. Ecco la situazione della sottostante di Gadigebbo, dove il rio Cairasca in piena... Grazie a tutti.